Presentati oggi a Roma i dati relativi agli incidenti stradali, domestici e scolastici che hanno come vittime i giovani un'indagine condotta dalla direzione regionale dell'INAILE in collaborazione con il Movimento Italiano dei Genitori. Silvia Rocchi. Aumentano gli infortuni in casa, carano quelli nelle scuole, carano ma di poco quelli sul posto di lavoro. Il pericolo maggiore corre sulle strade. Nel 2011 in Italia si contano più di 200.000 incidenti stradali con 300.000 feriti e quasi 4.000 morti. 26.000 nel Lazio, bilancio, 425 morti, 37.000 i feriti. E Roma è il primato della città più pericolosa seguita da Latina, Frosinone, Viterbo e Riedi. A scattare questa foto l'INAIL e il MOIGE, Movimento Italiano dei Genitori, che lanciano una campagna, sicurezza ovunque, perché sarà pure una frase fatta, ma in qualche caso vale la pena riusarla, prevenire è meglio che curare. Prevenzione e situazione che significa rispetto delle minime regole della sicurezza e rispetto per sé e per gli altri. La campagna parte venerdì prossimo, venerdì 16, e coinvolgerà sette scuole elementari di Roma e provincia. Bambini e insegnanti si daranno in un gioco a quiz chiamato sicurezza.